Diceva Domenzoni, cosa te ne fai delle tue mani pulite se poi le teni in tasca? Il sindaco Cialente cosa se ne fa della sua onestà se poi mostra ogni incompetenza? Non ha capito che l'Aquila è stata distrutta da coloro che volevano aiutare, da Berlusconi che ha costruito le New Town, non ha capito che l'Aquila è stata distrutta dai suoi amici di giunta, non ha capito che l'Aquila è stata distrutta dall'idea che il terremoto sia una grande porzione, prelibata porzione, dove tutti possono mangiare e non ha detto la verità, che cioè l'Aquila non si ricostruirà mai più tale quale, rimarranno buchi neri, ha mostrato ogni incompetenza nell'esercizio delle sue funzioni e si era dimesso e avrebbe l'Aquila potuto festeggiare la sua dimissioni, riflettendo finalmente so chi poteva prendere in mano la situazione e dare un futuro seppure incerto a questa città, poi però al pensiero, il ripensamento, non mi dimetto più. L'uomo è onesto ma totalmente incompetente e il destino dell'Aquila è di essere vittima di se stessa.